E' rimasto solo Roberto Renzi per sperare di ripartire. Lui e la sua S Samb. A maggio l'immobiliarista romano ha rilevato il titolo sportivo rosso-blu dall'asta fallimentare, ma a luglio non si è iscritto in Serie C per il nodo dei contributi previdenziali, pagati in una modalità non ritenuta congrua da IMSFGC, ovvero la cessione di crediti di IVA a terzi. Adesso Renzi, dopo la vittoria al Tar del Lazio, è in corsa per l'iscrizione in soprannumero in Serie D. Ieri la commissione comunale, il cui parere va ricordato non è in alcun modo vincolante, ha dato la preferenza al suo progetto e nella lettera inviata in FGC ha accreditato solo la sua S Samb. Il gruppo locale, capitanato da Claudio Bartolomei e dall'avvocato Roberto Ascani, si è arreso. Il socio di maggioranza, corteggiato fino all'ultimo, per inciso di fuori regione anche stavolta, alla fine si è chiamato fuori, convinto che Renzi avrà partita vinta domani in FGC. Domani entro le 12 in effetti il numero 1 della S Samb dovrà presentare la domanda di iscrizione in federazione. Oltre due assegni circolari per un totale di 350 mila euro quale contributo a fondo perduto già esibiti ieri alla commissione al sindaco uscente Pasqualino Piunti, Renzi dovrà allegare anche quello per i 50 mila della tassa, sistemare attraverso Bonifico, Fidio Iussione, i 332 mila di contributi già citati e dentro il 16 settembre far fronte anche ai 145 mila euro del risidio degli stipendi alla squadra della passata stagione. Poi scatterà l'ennesima attesa, con la decisione finale che spetterà il presidente Gabriele Gravina, il quale chiedeva un progetto radicato sul territorio, non lo avrà, ma la sentenza del Tar pesa, tanto che riferiscono di un Renzi tranquillo. Intanto però alla finestra resta la Samba 1923 di Antonella Pennacchi, moglie di Manolo Bucci, esclusa a inizio mese da Gravina, e che dopo aver chiesto l'accesso agli atti al comune ha scritto alla FIGC per reclamare un posto in Serie D.